Nonostante sia saltato lo scambio con Lukaku del Manchester United, Paolo Dybala resta sul mercato. La dirigenza bianconera pensa ora a una nuova destinazione per l'argentino, che nel frattempo è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche e ricominciare gli allenamenti. In pole position c'è ora al Paris Saint-Germain, ma non è tramontata l'idea di uno scambio con l'Inter, che porterebbe in bianconero Mauro Riccardi. Sarri accoglierebbe a braccia aperte l'ex capitano nero-azzurro, ma la trattativa tra i club non si preannuncia semplice. La Lazio blinda il suo attaccante Carlos Joachim Correa. Prima dell'inizio del ritiro ad Auronzo di Cadore, El Tuco è stato infatti omaggiato con un aumento di ingaggio e una clausola antiscippo da 70 milioni di euro. A rendere ancora più inaccessibile l'argentino, il fatto che per averlo è necessario sborsare l'intera cifra in un'unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione. Scoraggiate così le ambizioni del Napoli, che voleva offrire 40 milioni per il cartellino. Correa si è subito messo in mostra in questo avvio di stagione, realizzando 12 reti in 7 amichevoli. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun, David Beckham vorrebbe portare Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Inter Miami, l'ex capitano della nazionale inglese e proprietario insieme ad altri imprenditori del club che debutterà nella MLS nel 2020 ed è stato allenato da Ancelotti al Milan e al Paris Saint-Germain. Conferme arrivano anche da Jorge Mas, altro proprietario dell'Inter Miami, che spiega «Siamo vicini a ingaggiare un tecnico, qualcuno che conoscete e che ha giocato e allenato ai livelli più alti». Dopo le polemiche del GP di Germania per l'uscita dai box azzardata di Charles Leclerc, la Federazione Internazionale dell'Automobilismo ha deciso che d'ora in poi tutti gli unsafe release saranno puniti con una penalità temporale. La FIA, quindi, ha accolto le proteste di quanti lamentavano che la sola sanzione economica, con cui il ferrarista è stato punito per aver ostacolato Romain Grosjean in uscita dalla pit lane a Hockenheim, non era un deterrente efficace per evitare episodi del genere. Tra questi, ad esempio, Max Verstappen della Red Bull, sanzionato con una penalità temporale per un episodio simile durante il GP di Monaco.